Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti morbidi al pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero semolato, strutto, crema al pistacchio, granella di pistacchi, uova, farina, lievito e zucchero a velo per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo adesso lo strutto ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo adesso l'uovo, la granella di pistacchi e la crema di pistacchi. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 4. Aggiungiamo la farina e il lievito e amalgamiamo per 40 secondi a velocità 4. Avvolgiamo l'impasto nella pellicola trasparente e lasciamola riposare in frigo per circa 50 minuti. Trascorso un'ora abbiamo ripreso il nostro impasto dal frigo, adesso prendiamo un pezzetto, formiamo una pallina della grandezza più o meno di una noce e passiamola prima nello zucchero semolato e poi nello zucchero a velo. e posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno. Una volta preparati tutti i biscotti, cuociamo l'inforno preriscaldato statico a 180 gradi per circa 12 minuti. I biscotti sono cotti, lasciamoli raffreddare prima di servire. Biscotti morbidi al pistacchio. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!